Top Star Chef, Alfonso Signorini e la sua estate calda. Caldo e intenso come fuoco, il fuoco acceso sotto i fornelli. Ebbene sì, avete capito, fra le mille trasmissioni che trattano di cucina se ne aggiungerà una nuova, Top Star Chef, in onda su Canale 5 dal 9 giugno 2011 e condotta appunto da Alfonso Signorini. Siete contenti donne eh? Io sì, amo cucinare e visto che l'estate offre quasi sempre repliche su repliche, la notizia di qualcosa di non ancora visto, legato poi all'arte del cibo, beh, non può che farmi piacere. Anche se si spera di avere qualcosa di interessante da fare e qualcuno con cui farlo, invece di starsene davanti alla televisione. Sul programma comunque si sa ancora poco. Il format dovrebbe riprendere per alcuni versi quello del talent show Ballando con le stelle, con la sola differenza che i VIP coinvolti non dovranno cimentarsi sulla pista da ballo, bensì in cucina, sfidandosi a colpi di ricette coadiuvati da chef professionisti. La presenza di Signorini come capitano della baracca porterà quel pizzico in più alla trasmissione che potrebbe assumere un'atmosfera da salone di bellezza, con tutti i vari annissi e connessi. Chiacchiere quindi, pettecolezzi, news e tutto ciò che ci si può raccontare, mentre si tagliano cipolle, si impasta pane, si prita il prezzemolo e così via. Il nostro re dei gossip però non sarà solo. Al suo fianco, se tutto va bene, non è ancora confermato ufficialmente, dovrebbe esserci la spumeggiante Vanessa incontrata, che con la sua simpatia e genuinità renderà ancora più allegro e coinvolgente lo show. Non fatevi scappare questo nuovo inizio dunque e prendete appunti, mi raccomando! Grazie! 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 Grazie!